Salve carissimi amici tutubi, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Poco prima di Luca Comics, la mia casella e-mail è arrivata una newsletter da parte di Poliniani, riferendo che sarebbero usciti di lì, nelle prossime mesi, immaginavo sarebbero usciti per Luca, ma se ne sono ben guardati di dirlo, non ho capito il perché, comunque ci informavano che stava per uscire una serie di volumi e in particolare The Concert Feature, la fantasia, di Walt Disney. Volume di Mario Pettillo per i disegni di Giorgia De Salvo, l'avevo prenotato come cartonato in grande formato, poi non avendolo preso a Luca perché l'avevo prenotato, quindi mi dovevo arrivare, ecco che è successo che fondamentalmente si è persa parte della spedizione, quindi l'hanno ristampato in brossurato e mi hanno inviato il brossuratone, quindi si tratta di un brossuratone di grande formato con un po' di materiali extra in uno spillatino a parte. Dopo la sigla vi dico che cos'è questo volume, se mi è piaciuto e che cosa ne penso. Sigla! Allora, partiamo da un punto di vista puramente estetico. La disegnatrice Giorgia De Salvo ha uno stile misto tra il realistico e il cartoon, vi faccio vedere giusto le primissime pagine che non rientra tra i miei stili preferiti, è uno stile comunque gradevole che si lascia più che ben guardare e comunque abbastanza adatto a questa storia così, diciamo, realistica. Ci vuole parlare, infatti, questo volume di un momento storico ben preciso, un periodo storico che per l'appunto è quello del 1940-1941, dove per l'appunto abbiamo Walt Disney che ha appena deciso di voler contattare, lo vediamo all'interno di questa tavola, in un incontro piuttosto fortuito, un grande direttore d'orchestra per dirigere l'apprendista stregone e creare quindi il suo corto, quel frammento del corto dedicato al topolino apprendista stregone. Il personaggio di topolino deve essere rinnovato, ci sono cose del personaggio che non funzionano più, qualcosa che deve essere rivisitato e proprio in virtù di questo c'è la volontà e l'intenzione di fare questo corto. Ma nel mentre che parla, dialoga, qualcosa si illumina in Walt Disney, un'idea, un'idea completamente folle, visto che Bianca Neve e Tenani è andato così bene e che comunque si prospetta che anche il prossimo classico che stanno realizzando, ovvero sia Pinocchio, potrebbe andare altrettanto bene, la volontà di Walt Disney è quello di creare un film d'animazione basato sulla musica, interamente basato sulla musica. Quindi ha acquistato e sta acquistando opere musicali da diversi, diciamo, orchestrali o comunque diritti per poter fare diverse riproduzioni, sta scegliendo diversi direttori che possano condurre la melodia e fare le loro registrazioni, scegliendo cosa e come trasporre nei vari corti, nei vari spezzoni che comporranno, per l'appunto, fantasia. Tutto questo volume si concentra su quel periodo storico, dal momento in cui Walt Disney incontra questo direttore d'orchestra fino a quando poi il fin di fantasia non finisce nelle sale di tutto il mondo, fondamentalmente, delle sale americane, perché di lì a poco sarebbe scoppiata la seconda guerra mondiale e quindi le cose si sarebbero fatte un pochettino più complicate. Quello che vediamo è, da parte dell'autore, un certo determinato studio, uno studio piuttosto rigido e ben fatto, ben studiato, almeno questo è quello che traspare leggendo la storia, dove sì, si vuole mostrare il punto di vista di Walt Disney, ma si vuole allo stesso tempo mostrare il punto di vista di Roy, il fratello di Walt Disney e anche delle figure più importanti, più o meno importanti dello studio che hanno ruotato attorno al film fantasia. Che ruolo hanno avuto? Che cosa poi abbiano effettivamente, concretamente, fatto? I vari studi dei vari soggetti, alcuni poi realizzati concretamente e altri abbandonati? Chiaramente in questa opera, in questa storia, in questa biografia a fumetti, non tutto è stato possibile metterlo, quindi alcune parti sono un pochettino velocizzate anche per dare ritmo ebrio ad una narrazione, che è quella biografica, che spesso e volentieri avrebbe tempi anche relativamente morti, ma allo stesso tempo risulta abbastanza concisa, ma fedele, in quelle che sono le atmosfere che si potevano vivere ai Walt Disney Studios nel corso del 1940 fondamentalmente, periodo nel quale, sì, Bianca Neve è andata bene, sì, si sta lavorando tanto, ma la follia di Walt Disney di voler creare nei fatti e replicare una sorta di concerto al cinema con un'innovazione tecnologica così avanzata è stato un azzardo complito, assoluto e totale. Quindi, per quanto riguarda la storia, davvero nulla da dire. Visivamente la storia si difende abbastanza bene, ho notato qualche problema di lettering, o meglio, ho notato come le parole accentate, non le troverò mai, perché non me le sono segnate che pagina erano, non vengono riconosciute dal computer che ha elaborato il fumetto fondamentalmente e quindi si vedono dei simboli strani, che sono dei simboli fondamentalmente di errori e sinceramente mi è parso strano che ci sia questa cosa qui in un paio di occasioni, quindi le lettere accentate spariscono e compare un simbolo non meglio definito, ma che poi si capisce essere per l'appunto delle lettere accentate. A corredo della storia a fumetti, c'è una serie di editoriali di approfondimento, sono tre pagine scritte abbastanza fitte, abbastanza grandi, su fantasia, sul successo del film, come è andato il film, su come è arrivato in Italia, e su tutti quei personaggi che all'interno di questo volume magari fanno dei cameo, non hanno un ruolo così approfondito, perché magari hanno avuto un ruolo importante all'interno di fantasia, all'interno dello sviluppo di fantasia, ma che qui hanno ruoli marginali, hanno ruoli magari di secondo piano, perché magari gli è stato dato un incarico, e vediamo Walt che gli dà l'incarico, e all'interno di queste pagine, nelle tre pagine finali, in questo editoriale, l'autore, Mario Petillo, ci fornisce delle informazioni aggiuntive su cosa hanno fatto poi questi vari autori per l'appunto impianta stabile nei Walt Disney Studios, dopo fantasia, o anche per fantasia, un pochettino più nello specifico, visto che comunque il volume si focalizza sul personaggio di Walt Disney. Nel fascicoletto spillato, dato in omaggio con i preordini, abbiamo un po' di fotografie dell'epoca, un paio di situazioni, il problema è che non essendoci una didascalia per ogni singola vignetta, le cose appaiono un pochettino confuse, ci sono dei vecchi articoli di giornale, letteralmente riproposti, che è tutto materiale su cui, presumo, ci sia un attimino soffermato l'autore per studiare, si tratta quindi di un breve materiale extra di approfondimento, magari anche per l'ambientazione e il setting, mi viene da pensare che questo è il ristorante dove c'è stato il primo incontro, la prima sequenza del fumetto ha luogo, però per il resto risulta tutto un pochettino vago, non ho delle giuste direttive per capire bene questo materiale extra, ed è un po' un peccato, perché comunque, per l'appunto, nel momento in cui mi sfoglio degli extra, vorrei capire di che cosa si... o lo dovrei dare un pochettino per scontato, ma in questo caso mi mancano un po' di coordinate, nulla di eccessivo, ma comunque diciamo che il punto focale, il punto focale ovviamente di questa iniziativa non è tanto il materiale extra, è il volume, volume che mi sento di consigliare a chi ha amato il classico di fantasia, ma non ne conosce la genesi, non ne conosce la storia, vuole un pochettino approfondire, in una maniera diversa da quella che potrebbe essere un saggio sulla vita di Walt Disney, ma che voglia, per l'appunto, andare un pochettino più nel dettaglio su quell'esatto periodo storico. E tutto questo punto di vista si troverà piuttosto bene, anche perché è una storia, è un periodo storico, quello dei Walt Disney Studios, piuttosto travagliato, piuttosto complesso, quindi si avverte anche questo peso, queste difficoltà, da parte del protagonista, di Walt Disney, e quindi risulta tutto molto, molto codibile, tutto molto frizzantino. Avrei preferito l'edizione cartonata, che avevo regolarmente prenotato, ma come mi hanno fatto giustamente, giustamente no, però come mi hanno fatto notare quelle di Poliniani, in questo momento reperire materiali è abbastanza folle, abbastanza follia, e quindi hanno optato per un downgrade, da cartonato, abbrossurato, quindi la mia di fatto è una ristampa che viene al posto di un'edizione regolare, quindi un po' una situazione strana, la mia dovrebbe avermi rimborsato anche in parte il volume, non ho verificato in realtà, mi auguro che l'abbiano fatto, anche perché effettivamente penso di aver speso di più, di quanto è segnato il prezzo del volume, però questo è un pochettino il quanto. Mi piacerebbe, visto che l'autore mi si era proposto un attimino su Instagram, creare un momento magari con lui per parlarne ed approfondire meglio questa epopea, questo volume, quindi nel caso vi invito nello spazio commenti a dirmi se vi potrebbe interessare la cosa, se volete un'intervista a TutCurt, quindi una live magari in diretta con lui, o se preferite semplicemente un botta e risposta magari in video pre-registrato, che potremo registrare e poi evidentemente editare e montare da pubblicare in un secondo momento. Non mi dispiacerebbe in realtà in entrambe i casi, ecco, venirne a poterne riparlare insieme di questa fantasia, dovremmo un attimino metterci d'accordo tutti quanti e le parti, quindi magari sono io che non sono stato bravissimo in questo periodo a gestire la cosa, ma è stato un novembre-dicembre piuttosto impegnativo con parecchi impegni miei personali, quindi ho fatto veramente fatica a stare dietro a tutto, mi auguro che con gennaio le cose possano migliorare, perché in questo momento in cui sto registrando è ancora dicembre. Detto questo, vi invito nello spazio commenti a dirmi la vostra, nel caso in cui avete delle domande per l'autore, segnalatemele già qui sotto nello spazio commenti, così che magari io possa già rigirarle, così partiamo già da una base di domande che potrebbero essere già di interesse del pubblico, per il resto vediamoci, però appunto nello spazio commenti e vediamo se Mario Petillo ci sta e si offre nella realizzazione di un video, di una live interamente dedicata. Questo è quanto, da Francesco, dalla Soffitta di Camera Mia è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!